Sì, alla fine le due squadre l'hanno giocato veramente bene, devo dire tutti e due, la partita si è precisa sui episodi, sui punti finali. Gli hanno dato veramente un grande spettacolo, con delle riprese spettacolari, la palla che non c'è mai, quindi bene. Bene perché abbiamo vinto, bene perché il nostro pubblico ha assistito veramente una buona partita. E adesso con le prossime sfide, insomma, la testa ci deve rimanere? Assolutamente, perché ci vediamo il successo di stasera, però dobbiamo già iniziare a pensare che la settimana prossima giochiamo contro l'Italia. Un gruppo di ragazzini atterribili, hanno vinto di europei, stanno sempre portando a casa punti contro più, Monza con l'oro è perso.